Onorevole Giacchetti, Vicepresidente della Camera, anche la diciassettesima votazione termina con una fumata nera. A questo punto la maggioranza che deve fare realisticamente per superare questa fase di stallo? Sì, purtroppo siamo all'ennesima prova, diciamo, ne abbiamo passate tante, più di un anno che stiamo tentando di rendere giudici della Corte Costituzionale. Qui non è un problema di maggioranza, la Costituzione prevede che ci sia un quorum molto alto. Assistiamo e dobbiamo prendere atto che c'è una condizione diversa in Parlamento. I due partiti che in questo momento hanno cercato di fare un accordo non riescono. Ora non c'è dubbio che è innanzitutto in Forza Italia dove il problema c'è perché hanno cambiato quattro candidati e purtroppo siamo sempre allo stesso punto. Però noi dobbiamo prendere atto che il Parlamento non riesce, è in una condizione in cui non riesce ad eleggere con quello scrutinio, con quel quorum, i giudici della Corte. E quindi forse sarebbe utile avviare una riflessione anche con il terzo partito che sono i Cinque Stelle per trovare effettivamente un candidato che sia in grado di superare i tanti problemi che esistono e soprattutto quel famoso quorum. Mi lasci dire, io so perfettamente e mi rendo conto che l'atteggiamento dei Cinque Stelle è stato fin dall'inizio contrario, insulti, veti. Ma io penso che la politica nel momento in cui si trova in un impasto del genere, per il bene della politica, deve essere anche superiore a quelli che possono essere i problemi che di volta in volta si creano, i giudizi che sono anche aspri, ma fare un salto di qualità per restituire dignità alla politica. Noi non possiamo approcciarsi al diciottesimo scrutinio e rischiare di fare per l'ennesima volta questa figura. E lo dico anche in ragione dei candidati che sono esposti da ormai parecchie votazioni obiettivamente a una condizione che non è accettabile. Violante. Dovrebbe ritirare la sua candidatura? Il PD dovrebbe ormai togliere la sua candidatura? Io penso che il PD dovrebbe farsi promotore, ma ovviamente parlo a titolo personale, vorrei dirle che parlo quasi più in questo caso con la mia veste di Vicepresidente della Camera che cerca di fare in modo che il Parlamento non sia ulteriormente umiliato. La politica in generale e il PD, che è sicuramente il partito che ha più deputati e senatore, dovrebbe probabilmente farsi carico di riavvolgere il nastro e di avviare una concreta consultazione con le altre forze politiche principali, quindi sia con Forza Italia che con il Movimento 5 Stelle, per fare in modo che fuori da veti, da tutte le parti, si riesca effettivamente a individuare delle candidature che palesemente devono superare quelle attuali, perché quelle attuali sono ormai parecchi scrutini che vengono puntualmente, è vero che Violante prende più voti, ma mancano ancora 70 voti circa al quorum da raggiungere. Il PD secondo me deve prendere un'iniziativa politica ai capigruppo per fare in modo che si riapra un dialogo e si possa sbloccare questa situazione. Le intese ovviamente sono intese che sono state delegate ai capigruppo, quindi ovviamente Speranza e Zanda per quanto ci riguarda, ma è un lavoro che va fatto anche con gli altri capigruppo. Senta, il Movimento 5 Stelle oggi loro fanno il nome di un autorevole professore universitario, Franco Modugno, potrebbe essere questo uno dei nomi? Non lo so, vorrei uscire da questa logica. Il Movimento 5 Stelle ha posto dei veti e dei giudizi nei confronti di Violante che io non condivido assolutamente, quindi mi chiamo fuori da quel tipo di giudizio. Resta il fatto però che noi abbiamo l'esigenza di mettere in campo delle candidature che riescano a coinvolgere anche il Movimento 5 Stelle. Questo non solo perché c'è un problema di quorum, ma perché penso che obiettivamente, proprio per la configurazione che c'è in Parlamento, proprio perché abbiamo delle forze politiche che rappresentano milioni di elettori, è quasi un obbligo istituzionale raggiungere un accordo. La politica è faticosa, io lo so perfettamente, ripeto, l'atteggiamento dei grillini sicuramente è stato un veto preventivo sulla candidatura di Violante. Secondo lei è elegibile o no Violante? Non lo so, diciamo che trovo le due cose abbastanza singolari perché Violante è candidato da parecchi mesi, il Movimento 5 Stelle scopre due settimane fa che non sarebbe elegibile e Brunetta lo scopre oggi dopo che peraltro l'ha votato per alcune elezioni. Io ritengo che Luciano Violante sia una persona di altissimo profilo e di anche straordinaria conoscenza delle materie delle quali si deve occupare. Sui requisiti non sono assolutamente in grado di stabilirlo, ma francamente, ripeto, probabilmente se ne sarebbe dovuti accorgere prima. Purtroppo prendo atto che nonostante questo, d'altra parte abbiamo avuto il problema dell'elezione del Presidente della Repubblica con questo stesso Parlamento e siamo dovuti ricorrere a una soluzione che sicuramente non era gradita neanche a chi in questo momento si trova a dover ancora ricoprire quel ruolo. Perché? Perché non si è riuscito a fare un lavoro dal punto di vista politico che consentisse di raggiungere il quorum che è previsto. Ci troviamo in qualche modo in una situazione simile. Ripeto, è del tutto evidente, guardando anche i numeri, che il problema è innanzitutto in Forza Italia. Però è del tutto evidente che la situazione è questa, non se ne esce fuori e stancamente riproporre votazioni nelle quali facciamo venire qui mille parlamentari, sapendo, dando quasi per scontato che non se ne esce, non è un bel segnale per la politica, per tutti, che si riflette negativamente su tutti, non solo su Partito Democratico e Forza Italia, a mio avviso anche nei confronti del Movimento 5 Stelle. Ma che succede se anche la diciottesima andrà con una fumata nera o ci sarà una fumata nera nera anche la diciottesima votazione? Lei mi lascia la speranza di credere che questo umilissimo appello che io rivolgo invece ci consenta di non trovarci nella diciottesima votazione in queste condizioni. Noi dobbiamo essere in grado anche di recuperare quello strappo che c'è stato, quindi abbiamo la possibilità perché credo che torneremo la settimana prossima a votare anche per il rappresentante del CSM. Io penso che sarebbe una bella pagina per la politica se noi riuscissimo a rimettere insieme una proposta che riguarda un recupero rispetto al CSM con l'indicazione di una candidatura del Movimento 5 Stelle e contemporaneamente con una disponibilità reale da parte del Movimento 5 Stelle a trovare un accordo su candidati nuovi per la consulta. Non possiamo permetterci il diciottesimo scrutinio che consegna di nuovo un fallimento nella realizzazione di un obiettivo che è costituzionalmente previsto. A questo punto si deve uscire fuori però dalla logica del patto del Nazareno. Questo accordo, nonostante si semplifichi in questo modo, non c'entra col patto del Nazareno. Questo accordo è un accordo che prevede la maggioranza con Forza Italia, essendo che Forza Italia si è dichiarata disponibile sul Violante e invece i grillini hanno detto subito di no, è l'intera maggioranza che ha fatto un accordo con Forza Italia per raggiungere un obiettivo previsto dalla Costituzione, non dal patto del Nazareno. Per eleggere i giudici della Corte Costituzionale ci vogliono 570 voti. Lei mi vuole dire, è stata fatta una scelta di fare un accordo con Forza Italia piuttosto che con i grillini. Diciamo che quando sono state messe in campo le candidature Forza Italia non ha posto un veto su Violante e quindi è chiaro che il Partito Democratico che aveva come candidato Violante ha fatto insieme alla maggioranza e quindi il nuovo centrodestra, scelta civica e via parlando, ha fatto un accordo con Forza Italia perché era disponibile andare su Violante. Io penso che tutte le forze politiche, compreso il Movimento 5 Stelle, devono riavvolgere il nastro e trovare, sapendo che non è un inciucio, non è un patto del Nazareno piuttosto che non so di che cos'altro, è un'esigenza prevista dalla Costituzione che ci sia un quorum garantito per eleggere due giudici della Corte Costituzionale. Questo comporta che nessuno può imporre a nessun altro un candidato e comporta che nessun altro può porre veti preventivi su qualcun altro. La politica è l'arte del possibile, è anche una grande fatica. I giorni e le ore ci sono, io penso che debbano essere impiegati per trovare una soluzione. Segnalo che quando noi eleggemmo Luigi Di Maio a vicepresidente della Camera, lo eleggemmo perché ci fu una scelta politica di dare noi come maggioranza i voti a Di Maio per essere eletto, perché diversamente Di Maio poteva tranquillamente non essere eletto e poteva essere eletto un vicepresidente di un altro dei partiti di opposizione o comunque un altro vicepresidente. Lì fu fatta una scelta politica. Ora è del tutto evidente che in questa situazione, che è una situazione diversa perché sappiamo che c'è un quorum diverso, ci sono condizioni diverse, torno a dire che noi dobbiamo fare un passo avanti riaprendo un ragionamento anche con il Movimento 5 Stelle. Quando dico noi, dico noi come Partito Democratico, ma dico noi anche come Forza Italia, dico noi anche come le altre forze che concorrono al raggiungimento di questo quorum. E contemporaneamente il Movimento 5 Stelle deve essere più disponibile a concordare un nome e a non apporre semplicemente un veto su quello che c'è oppure imporre il proprio nome. La politica è in grado di farlo questo, basta volerlo.